Ragazzi, 2-2, Sampdoria-Inter 2-2, scoccia, scoccia perché è un pareggio, siamo abituati a vincere ormai, quindi rompe un po' le scatole, però comunque è un punto guadagnato per esempio sulla Juve, per esempio, quindi stiamo tranquilli. E poi oggi alle 18 guardiamo anche Milan-Lazio su Twitch, mi raccomando, vi aspetto, però parliamo un attimo di questa partita, cerchiamo di rimanere lucidi e analizzare quello che è successo, quello che abbiamo visto, senza impazzire come sicuramente farà qualcuno perché adesso è comoda, appena l'Inter è pazzi dovunque. In realtà ragazzi, oggi abbiamo dato tutto il possibile sul campo, l'Inter non ne aveva, cioè eravamo affaticati, eravamo più stanchi e quando c'è da dare qualcosa in più, che devi recuperare una situazione sfavorevole, sei pure in 10 per 25 minuti con Correa che è andato per fare la punta, per dare supporto a Dzeko che era un po' stanco e invece deve fare il centrocampista, insomma, tutte queste cose sono molto difficili da gestire per una squadra che è molto stanca. Perché tutti i nostri sono andati in tutti quanti in nazionale, praticamente tutta la squadra che ha giocato oggi e la Samp è molto più riposata, molto semplice ragazzi, bisogna anche accettarlo, capire che a volte è così e c'è la partita storta dove non puoi fare di più di questo. Poi fai anche degli errori, adesso li vediamo, e poi ci vanno anche male alcune cose e allora vabbè. Allora, per esempio, Andanovic, il primo gol che abbiamo preso ha delle responsabilità, cioè è sempre incollato alla linea della porta, lì poteva uscire e dentro l'area piccola fai due passi, cioè un passo e un altro slancio, perché non è che sono 16 passi più uno slancio, sono tan tan e sei sopra, perché l'area piccola, lui è incollato sulla linea della porta in una maniera devastante, ma quella palla lì con la palla un bella alta, credo di Collei, no? Ribattuta un po' alta, così che era anche alta, non è che è andata veloce, subito sull'area piccola. Alta, leggibilissima, lì mi aspetto, io mi aspetto che lì un portiere di un metro e 95 esce fuori, magari se non la riesce a prendere, tira un pugno, per esempio, tira un pugno al pallone e lo mandi via, no? E invece no, la palla rimane lì, poi c'è la pallombella e va dentro, cioè, però un gol è pesante da subire lì, abbiamo messo tutto quanto in ordine, già sbloccato la partita, si poteva tenere un po' lì, la Sampdori avrebbe perso un po' la pazienza e tutto quanto, e magari la partita è un po' diversa, e invece ti ricomplichi la vita, poi devi andare a recuperare, spendere energie che non hai, poi ti fanno loro gol, poi rimani in dieci e non hai più le energie per andare avanti ancora. Poi, diciamo anche che abbiamo sbagliato due gol devastanti, però a due occasioni dove si poteva molto fare meglio. C'è la Noglu, quel tiro un po' strozzato che gli è uscito di tanto così dalla porta, giusta l'idea geniale di fintare un po' di aprirlo, perché un destro da lì lo mette sul secondo palo e aggira, no? E invece ha preso in contrattempo il portiere mettendola dall'altra parte tesa. Però la stretta troppo è uscita, cioè, ragazzi, quello è un gol quasi, quasi un gol mangiato, quasi. Ma soprattutto l'altro gol mangiato, quello vero mangiato, perché lì in esecuzione così. E Perisic, caspita, si è smarcato benissimo, ottimo partito di Perisic oggi, perché poi c'è sempre chi rompe le balle. Madonna santissima la gente che va per così, no, frasi fatte perché Perisic è male sempre, perché adesso è antipatico, sempre male. Oggi ha fatto una grande partita Perisic, ha fatto delle corse pazzesche, mi è piaciuto veramente tanto. Però lì ha sbagliato, lì ha sbagliato palesemente, perché l'esecuzione di quel passaggio per Dzeko sul secondo palo poteva essere un pochino poco, un po' più morbida, invece ha tirato una fucilata. E Dzeko ha detto, non l'ho neanche visto passare a sto pallone qua, ai 145 orari. Ecco, quello lì era un altro gol fatto, per esempio, eh. Quindi diciamo che Perisic ha fatto un gran movimento, ma l'ha vanificato poi con un'esecuzione poco precisa. Eh, ragazzi, lì devi metterle. Non è che hai mille occasioni quando sei stanco e tutto, non è che magari riesci a dominare tutti i contrasti, tutti i palloni, tutta la partita. E quindi quando hai quelle tre occasioni devi metterle, invece abbiamo sprecate. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Arriviamo un po', ripercorriamo un po' la partita, dicendo che allora Dzeko comunque mi è piaciuto. Perché anche lui ha giocato per il nazionale, ha dato tutto anche oggi, ha combattuto, ha pulito i palloni. Soprattutto nel primo tempo, quando aveva un po' più fiato, ha pulito dei palloni con una classe, una tecnica, una pulizia veramente meravigliosa. Anche dei tacchi, delle cose all'inizio. Poi chiaramente la stanchezza si fa sentire, alla fine era spompato, ma ha combattuto tanto, è tornato anche indietro. Ha recuperato tra 4 o 5 palloni con dei contrasti. Bene, 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 mi è piaciuto. Purtroppo non è infinito, ecco. Poi, ah, ragazzi, Di Marco, c'è, allora il cronista, c'è la punizione, una punizione dal limite nostro, un po' sulla destra, quindi perfetto per un mancino. Cronista, che non so chi fosse, Bergamasco mi sembra, era un Bergamasco dall'accento. Vabbè, comunque tranquilli, che diceva, eh mamma, c'è Brozovic, c'è Cialanoglu, c'è Dzeko, chissà chi batterà la punizione. Ma quella è la piazzola del mancino di Di Marco. Di Marco, caro cronista bergamasco. E infatti arriva la spolverata di Di Marco. Perché quella è una spolverata di Di Marco, perché, ragazzi, ha tolto le ragnatele dalla porta, perché ha fatto tutto il giro, bello, il pallone. Entrando proprio, sfiorando il 7, no, l'incrocio dei palli, sfiora, ha tolto tutte le ragnatele, bellissimo gol. Ma proprio, era proprio scritto. Sapete come Eriksen contro il Milan, che da lì, cioè, questa è la punizione che cambia l'anno, no? Anche questa qui si vede, cioè, che lo sentivi che andava dentro. Anche questa roba, me la sentivo che andava dentro. Proprio, ho detto, se batte Di Marco, questo è gol. E infatti, mi fa molto piacere per lui. Poi, Di Andanovi ci ho già detto, ragazzi, mamma mia, abbiamo preso un gol per questa cagata, e vabbè. Poi, Barella, ragazzi, secondo gol dell'Inter, meraviglioso. Break di Barella, devastante. Tiro al volo di sinistro, di Lautaro, meraviglioso. Anche quello per la coordinazione, bella azione. Ma, ragazzi, tutto è partito da Cialanoglu. Perché adesso, cioè, io conosco già i miei polli. Che non vuol dire che conosco voi, perché voi, cioè, nel senso, conosco voi, ma nel senso che non mi riferisco a voi. Perché, cioè, la community dell'Inter è molto vasta. E quando faccio delle provocazioni, al 95% mi riferisco a quelli che non guardano questo canale, in realtà. E che magari ci, perché in realtà ci passano ogni tanto, no? Oppure perché voi possiate condividerlo a quelli che non lo vedono, questo canale. E cosa dicevo? Che Cialanoglu, dopo il pericice, antipatico, brutto, non capisce niente, scarso. I luoghi comuni sono questi. Poi c'è il Cialanoglu. Ah, ecco, ho visto, bidone, oggi ha fatto schifo. Perché oggi, se non segna tutti i giorni, fa schifo. Cialanoglu oggi ha fatto una partita di sostanza, invece. Non ha brillato, vabbè, parliamo di Brozovic. Non ha brillato, ma in realtà ha fatto una buona partita di sostanza. Ha recuperato due o tre palloni importanti. Correva sempre anche all'indietro. E il gol di Barella, ragazzi, guardatevi il gol di Barella. C'è di Barella di Lautaro. Lautaro con Barella. Nasce tutto da un recupero palla di Cialanoglu. Che è un giocatore che, centrocampo, è di qualità. Ma sa anche giocare di spada, se ogni tanto serve. Cioè, è una partita sporca, fisica, così complicata. Sa metterci il corpo. Sa anche andare a contrasto, a sportellare. Ed è questo che vuole Inzaghi, centrocampo. Vuole anche giocatori che facciano questo. Però, non è che vuole solo giocatori che fanno questo. E rinuncia alla tecnica. Quindi, se è un giocatore tecnico, come Cialanoglu. Che però si atteggia anche dal giocatore che può recuperare qualche pallone. È top. Ecco perché vede sensi più avanti e non dietro. E Cialanoglu ha dato il via all'azione di Barella. Barella, proprio sportellando con Torsby, se non sbaglio. No, con Damskart, non mi ricordo più. Comunque con uno dei due. Ha sportellato, pan, con la spalla. Ha preso il pallone. Servito, invece di ingolosirsi e buttare il pallone in avanti alle punte. Imprendibile. Ha aspettato. Quei tempi giusti serve Barella. Barella ha lo spazio per fare il break. Capite, cioè, capite, anche l'utilità di giocatori. Che magari, a volte, sono meno appariscenti. Però, però, c'era in partita. Perché c'è qualcuno che dice Eh, ma oggi non c'era in partita. Sono sicuro, eh, che verrà fuori chi dice Eh, ma Cialanoglu oggi non era in partita, non si è mai visto. Ma perché voi non lo guardate? Non guardate dove va? Cosa fa? Quando si rende utile? Eh, allora, cazzo, il problema è vostro. Vabbè, scusate se mi sfogo, no? Visto che l'Inter ha pareggiato, mi sfogo sulle cagate che sento in giro. Così almeno, diciamo, non pensiamo al fatto che abbiamo perso due punticini. Comunque, a parte questo, ora, poi, ecco, Barella basso, arretrato via Brozovic, che era ammonito, ha fatto benissimo, anche Brozovic non era in partita. Quando Brozovic non è in condizione, sbaglia i passaggi, fa robe, quindi va bene. Barella basso, perfetto, partita meravigliosa di Barella. Ha fatto un errore, sì, al novantaquattresimo, spompato, morto, distrutto. Però, Barella può fare benissimo quel ruolo lì, Inzaghi lo sa, lo ha adoperato lì, bravo, bravo, bravo Inzaghi. Barella mi piace in tutti i ruoli di centrocampo. E ha alzato Di Marco, come dicevo anch'io ieri, no? Di Marco, cambia, quella cosa lì è strategica, perché Di Marco parte basso, poi lo metti alto. Purtroppo poi, se si è fatto male, eh, quello non poteva sopravvederlo nessuno. Eh, vabbè, pazienza. Però, tutto questo al cinquantacinquesimo, quindi Inzaghi è uno che fa i cambi anche presto. Poi oggi siamo stati sfortunati. Correa è entrato al cessantesimo, quindi era viva la partita, l'Inter era in crescita, Inzaghi voleva portarla a casa, purtroppo poi non poteva prevedere che Correa sarebbe entrato per fare il centrocampista, perché di fatto Sensi ha dato a forfè dopo 30 secondi. Ecco, e qui io volevo anche dire, non forse l'unico errore è stato di Inzaghi ad aver messo Sensi, perché non puoi affidarti a uno così, che ha avuto anche la botta qualche giorno fa, eccetera, eccetera. Però in realtà non posso neanche dare la colpa in Inzaghi, perché è stato un contrasto di gioco, non è che si è fermato per, ah, un affaticamento, cioè, ha fatto un contrasto di gioco, lui è fragilissimo, madonna signora, e ci ha lasciato in dieci, cioè questo è il punto. Poi, oh, ragazzi, commovente il fatto che sia rimasto in campo, commovente il fatto che non voglia, così lasciarla vinta agli infortuni, al destino, triste, baro, eccetera, eccetera, però questa è la realtà, cioè, Sensi è un giocatore impossibile su cui fare affidamento. Cioè, ragazzi, bisogna accettare questa roba qua, non ci si può fare affidamento, questo lo dico a quelli che, ma Sensi se diventa, io torrei perché diventa un fenomeno. Sensi non lo vedi mai in campo, quindi, e quando lo metti in campo, poi succede che non è al 100%, poi si ha infortuni, poi adesso rimaniamo in dieci, ragazzi, io preferisco uno come Vessino, che è meno qualità, però sai che quando entra gioca, cioè, almeno non ti lascia in dieci, no? Questo è il punto. Ragazzi, o Satriano, chi volete voi, adesso Vessino ho detto per dire un ruolo simile, boh, questo è il punto, e abbiamo giocato in dieci per 25 minuti, spompati, e ragazzi, che cosa si, si pagano. Comunque, a parte la commozione su Sensi, perché io mi sono commosso a vedere comunque, che ha provato a stare dentro, cioè, nel senso che provo a capire quanto male stia, a livello psicologico. A parte questa, un'altra cosa toccante, che mi ha veramente colpito, è sentire l'inno dell'Inter, c'è solo l'Inter, cantata dai nostri tifosi, allo stadio della Samp, bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto tanto, bravi i tifosi allo stadio, a incitare la squadra, nonostante la grande difficoltà, vedendo che non ce ne aveva più di fiato, vedendo che gli eventi erano anche sfavorevoli, e tutto quanto, bene, comunque un punto, è vero, due punti lasciati, però in realtà è un punto portato a casa, che va sempre bene, meglio un punto che zero, tipo Allegri, mi pare che avessero zero punti ieri, mi pare di sì, no? Capito, quindi meglio un punto, in situazioni del genere, bene ragazzi, io vi lascio, domani pagelle, oggi però alle 18, live, Milan-Lazio, per vedere un po', se anche qualcuno di queste qua perde punti, sperando che sia più la prima a perdere i punti, che non la seconda, visto che Juve e Milan, vabbè, ma tanto il Milan vince 4-5-0, vabbè, ciao ragazzi, forza Inter, a domani pagelle, oggi 18, live Twitch, mi raccomando, forza Inter, stiamo tranquilli, sfogatevi contro i depensanti, ma non su Inzaghi, non sui giocatori, non su questa squadra, che oggi ha dato il massimo, secondo me, che poteva dare in campo, ah, parolina su Dumfries, perché sono anche quelli che rompono balli su Dumfries, ragazzi, Dumfries oggi è entrato, ha fatto tutto quello che, in realtà, non dovrebbe fare, ma non perché ha sbagliato, lui, perché ha fatto la seconda punta, perché ha fatto il centrocampista, poi ha fatto l'esterno, cioè, la partita era, asterisco, cioè, era una partita particolare, per come si è messa, e, ecco, cioè, non giudichiamo, è ingiudicabile, ok, lo dico per chi può avere, perché ha fatto degli spunti positivi, altre volte ha fatto il lavoro un po' sporco, ragazzi, non chiedetemi cosa ne pensi di Dumfries oggi, perché non ci sono elementi, cioè, nel senso, state tranquilli, lo vedremo nelle prossime partite, ok, forza Inter, Grazie a tutti,